Più pensionati, meno personale. E' l'effetto immediato di quota 100 che svuota le scuole, creando una carenza di personale che difficilmente potrà essere rimpiazzato prima dell'avvio del prossimo anno scolastico e che nell'immediato darà vita a un nuovo esercito di precari in attesa di tempi burocraticamente utili per una stabilizzazione che non sarà di certo immediata. A lanciare l'allarme Carlo Frascari, segretario regionale dello SNALS, il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori delle scuole. I dati provvisori ci dicono che avremo circa un 500 pensionamenti in più rispetto alla norma di quelli che andavano comunque in pensione. Non è un dato esplosivo se si dovesse mantenere in questi numeri, però comunque dà delle preoccupazioni, perché per poter avere il personale docente stabile avremmo bisogno di coprire questi posti con personale di ruolo e quindi con concorsi che sono ancora in una fase di organizzazione. Quindi prefiguriamo che questo problema porterà a un aumento del precariato. Il problema è che aumentando il precariato si abbassa la qualità perché dopo non c'è più continuità nella didattica. Di questo siamo convinti. Forse bisognava preoccuparsi prima di vedere come fare per coprire questi posti e poi procedere. Ci sono alcune scuole che chiudono perché mancano gli iscritti? Purtroppo anche quest'anno il trend abruzzese, ma comunque anche quello nazionale per dire la verità, è negativo. Cioè ci attestiamo, sembrerebbe intorno ai 6-700 alunni in meno. Ma cosa porterà a questo punto? Come diceva lei, porterà molto probabilmente alla riduzione ancora degli istituti autonomi. Senta, poi c'è un'ultima questione che va anche analizzata e che riguarda soprattutto i comuni che fanno parte del cratere sismico. Insomma, ci sono ancora situazioni complicate per i plessi scolastici che non hanno più gli edifici scolastici di un tempo e che sono nei muscoli. Dopo dieci anni stiamo ancora attendendo la ricostruzione degli edifici scolastici per dare una sistemazione sociale, sociale, alle province soprattutto dell'Aquila e anche di terremoto successivo. Ora, se non parte immediatamente la ricostruzione degli edifici scolastici, noi avremo fra due o tre anni un problema serio di gestione degli stessi MUSP che vanno a degradarsi per ragioni tecniche. Quindi alla politica sta in questo caso l'urgenza e quindi, ripeto, lancio l'appello alla nuova governance politica regionale perché ci sia una veloce ricostruzione degli edifici scolastici.